Sono in totale 12 gli amministratori e i dirigenti del gruppo Eni che a dicembre dovranno presentarsi davanti al giudice del Tribunale. È stato disposto il processo nei loro confronti perché a vario titolo sono accusati di non aver ottemperato alle varie fasi del procedimento per la bonifica delle acque di falda. Gli imputati operano per raffinerie e sindi all'oggeni Rewind. Il progetto di bonifica delle acque di falda, secondo gli investigatori, non è stato completato e la Procura, un anno fa, aveva chiesto e ottenuto il sequestro preventivo del ramo aziendale. Il provvedimento di sequestro dell'impianto era stato attivato lo scorso 11 ottobre. Secondo gli investigatori, il progetto di bonifica nelle acque di falda non era stato completato. Le aree dello stabilimento, toccate dal progetto di bonifica incompleto, sono state poste sotto sequestro su disposizione del GIP del Tribunale. La Procura aveva anche nominato un amministratore giudiziario. L'indagine fa riferimento all'attuazione e al monitoraggio del progetto di bonifica delle acque di falda approvato dal Ministero dell'Ambiente del 2004, nonché al sequestro preventivo delle aree dello stabilimento destinate all'attuazione dello stesso progetto di bonifica. Dagli accertamenti effettuati risultarono alte concentrazioni di manganese, di idrocarburi e di mercurio nelle acque che poi finivano in mare o nei terreni. La società ambientale di Eni è titolare degli oneri di bonifica delle aree ex Anish, circa 17 ettari, e gestisce le attività di demolizione degli asset ISAF distribuiti in circa 55 ettari, che comprendono l'Isola 9 e l'ex discarica Fosfogessi. Le attività contemplano la messa in sicurezza di emergenza permanente, la demolizione di impianti, la bonifica dei suoli e il mantenimento e il monitoraggio della falda multisocetaria con la gestione dell'impianto di trattamento delle acque. Ed è proprio su quest'ultimo punto che si sarebbero concentrate le indagini della Procura. Secondo l'azienda, a Gela, EniRewind ha messo in campo tecnologie innovative, nate e sviluppate nei laboratori di ricerca Eni per ottimizzare la bonifica dei suoli e della falda, attività che però non avrebbero convinto la Procura gelese, che a ottobre ha così predisposto il sequestro preventivo, avendo riscontrato, mediante complessi accertamenti tecnici, il mancato raggiungimento da parte della raffineria EniRewind degli obiettivi di bonifica contenuti nel progetto del sito di Gela. Adesso, dunque, si andrà a processo nei confronti dei 12 dirigenti che a vario titolo sono accusati di non aver ottemperato alle varie fasi del procedimento per la bonifica. L'attività investigativa è stata eseguita dalla Capitaneria di Porto di Gela e dagli uomini del Commissariato di Polizia su delega della Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo, Fernando Asaro.